Sono felicissima e emozionata nel dare il benvenuto a una donna speciale, una scrittrice, attrice, una donna che conosce molto bene gli italiani o dovrei dire le italiane, ma soprattutto un'amica, Lella Costa. Grazie, grazie, che carina, grazie, che bella presentazione. Sì, ma tu sai che ci tengo tantissimo a te e sono felicissima di averti qua. Io sono felice di esserci e sai che la stima, l'affetto adesso facciamo facendo una cosa in famiglia, però una volta che è vera, alla faccia di quelli che dicono che non esiste la solidarietà femminile, sono palle. L'italiano, no? L'Italia è conosciuta in tutto il mondo come il bel paese. L'italiano è quello che riescono a cavarsi con un sorriso anche in qualsiasi momento difficile. È ancora così, secondo te? Temo che in questo momento in particolare sia sempre molto più difficile trovare la forza o la dissenatezza per sorridere. Però credo che se si riesce ad essere sorridenti ma consapevoli di quanto costa questo sorriso sia una bella dote, insomma. Mi dispiacerebbe che la perdessimo, no? Ma gli italiani sono arrabbiati, secondo te? Sono, ma sai, sono arrabbiati, credo anche che siano più che altro avviliti, che siamo avviliti, un po' umiliati. Ci sentiamo traditi, ci sentiamo presi in giro e questo è brutto perché poi, sai, la rabbia comunque suscita delle reazioni. Anche lì, purtroppo, non sempre controllabili e non sempre positive, però è una sensazione che ti porta a reagire. Invece l'avvilimento e il senso appunto di impotenza... Sì, ma adesso con l'arrivo dei social media, internet, social network, è più facile esprimere la propria rabbia? Sì, secondo me quei mezzi, che sono straordinarie potenzialità, però hanno il limite e il rischio è che molto spesso ci si dimentica che sono degli strumenti e diventano dei fini in sé, no? Cioè il solo fatto di essere, di avere questa cosa ti esprimere. E quindi diventano delle straordinarie passerelle di narcisismo, per cui più che dire delle cose perché bisogna di condividerle, le dici perché vuoi far vedere quanto sei bravo, quanto sei bravo, come la sai lunga, come la sai più rapidamente degli altri. A me fa un po' paura questa cosa che la rapidità è diventata sinonimo di positività. Rapido vuol dire che vai veloce, poi bisogna vedere cosa c'è dentro però. Invece parliamo di Se non ora, quando? Il movimento che anche tu sostieni, come altre tantissime donne, ovviamente che porta il punto femminile in primo piano, ma qualcuno sostiene ancora che il diritto di arrabbiarsi sia soprattutto maschile? Ma io direi che il diritto di arrabbiarsi abbia comunque come contraltare il dovere di arrabbiarsi, perché ci sono delle cose che sono, bisogna vedere le cause della rabbia e magari quando si può bisogna provare a cambiare la qualità della rabbia. Credo che la rabbia delle donne, che in realtà cova ed è presente da molti, molti più anni, finalmente anche in Italia, abbia trovato un modo collettivo di esprimersi. Pensiamo a quello che è stata la manifestazione del febbraio del 2011, che ha veramente portato in piazza, ma non soltanto nelle grandi città, in piccole città, piccoli paesi, ma perché quella è la rabbia delle donne, che è una rabbia che non ha avuto voce, non ha avuto visibilità per troppo tempo. Preparando questa puntata abbiamo parlato in redazione di cose che fa arrabbiare, per esempio i complimenti fischi sulla strada e c'è proprio una netta divisione di donne che si arrabbiano, altre che dicono no, ma è carino, mi piace, tu come ti spieghi? Sai cos'è la cosa che a me fa veramente arrabbiare? È che in questo terrore, in cui, insomma comunque in questo disagio, in cui tutte le donne, e questo so di poterlo dire a nome di tutte le donne, prima o poi incappano, perché indipendentemente dall'età che hai, da come sei vestita, da quello che stai facendo, magari sei carica di borse della spesa, e ti capita quella forma di intrusione, di aggressione, di volgarità che ti viene vomitata addosso, che è diverso dai complimenti. Quello che a me fa davvero arrabbiare è che è una cosa molto bella, che è la possibilità di fare degli incontri magari fugaci, anche solo scambiarsi un sorriso per la strada tra un uomo e una donna, noi non ce lo possiamo più permettere, perché è possibile che qualcuno ti faccia notare che siccome hai sorriso, allora in realtà desideravi essere violentata, no? Oh my God! Questo è il passaggio che viene dopo. È cambiato il modo di esprimere la propria rabbia? Di lamentarsi, di protestare contro le cose che ci fanno arrabbiare? Sono sicuramente cambiate le modalità, no? Io da piccola bruciavo i reggiseni, non letteralmente, ma insomma si faceva quello, che era un modo di liberarsi da certe costrizioni e adesso curiosamente ci sono invece dei modi di seduzione femminile, pensa al burlesque che ha una sua valenza provocatoria. C'è addirittura chi usa il proprio corpo come manifesto, come tela, dove si dipinge i simboli, le lettere, le parole, le atture.